E' vietato ai pedoni su stare nelle aree di preembarco? Ah si? E dove cazzo dovrebbero andare sti pedoni se non gli mettete almeno due gambettine? Beh in realtà la battuta è tragicomica e se ci fermiamo un attimo a riflettere non possiamo non far altro che constatare che sin dall'età giovanile ci mettono in riga come dei pedoni E guarda caso per l'appunto ci chiamano proprio pedoni un po' manovrabili diciamo Strana coincidenza?